C'è tempo fino al 5 giugno per far visita alla mostra 27 anni di pittura 63 anni di mestiere contenente le opere di Luigi Ardillo organizzata dal Rotary Club Belluno e allestita nella Galleria di San Rocco tra il centro Giovanni XXIII e Piazza dei Martiri l'esposizione è caratterizzata da una precisa finalità benefica La mostra nasce proprio dalla disponibilità di Luigi Ardillo, nostro socio storico quasi novantenne che è conosciuto dal punto di vista professionale perché è stato dal 67 al 97 primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Belluno nostro socio storico e appassionato d'arte ha deciso di donare a questo punto parte delle sue opere personali che si portano al realismo magico proprio per sostenere un progetto importante che si collega molto alla sua professione ovvero sia il progetto Pippi che è un progetto dell'ULS di Belluno esistente ma che necessita di essere sostenuto dal punto di vista economico che è un programma di interventi per la prevenzione e l'istituzionalizzazione dei bambini della nostra provincia che va a toccare uno degli aspetti che spesso non si riconoscono nel nostro territorio che è la povertà non la povertà economica ma spesso la povertà culturale e in questo caso la povertà nella non capacità di molti genitori di esercitare il ruolo di essere genitori il progetto Pippi ha una serie di interventi educativi a favore dei bambini fino agli 11 anni ma soprattutto a favore dei genitori affinché questi bimbi non vengano istituzionalizzati quindi ci è sembrata una cosa incredibile la disponibilità di Luigi Ardillo e di sua moglie Ada di organizzare questa mostra a favore di questo progetto perché unisce la sua passione ma anche la sua professione al sostegno di un progetto utile per il nostro territorio in esposizione non solo quadri ma anche porcellane e accessori vari la mostra è aperta al pubblico con orario dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.